Gloria, gloria al Signore Fratelli Pace, ecco il saluto che Gesù dà ai Suoi Apostoli quando li viene a visitare, che erano pieni di puro, nel Cenacolo. Ecco le parole che ho detto ieri sui martiri, qui prendono forza dalle parole di San Pietro Grisologo. Da qui viene che i martiri nascono quando muoiono, cominciano a vivere con la fine, vivono quando sono uccisi, brillano nel cielo essi che sulla terra erano creduti e stinti. Ecco allora, di fronte a questi fatti la nostra vita cambia, fratelli, la nostra vita non è più come prima. Di fronte a questi fatti noi l'odiamo Dio perché alcuni nostri fratelli hanno avuto il coraggio di dare la vita e da questo viene che anche noi dobbiamo essere solidali con loro amando i nemici che ci circondano, amandoli, facendo loro del bene. Allora non ci potranno uccidere con le pollottele, però ci possono uccidere con la critica. Amiamoli, fratelli, amiamoli e saremo anche noi dei martiri. Pace e bene.